il mio video è perfetto, questo tono di voce è shwantella, tanto tapping, don't clicking ciao, 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 ciao grazie di essere qui, 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 con me oggi, oggi, oggi oggi torna una delle mie rubrici preferite, cioè la rubrica il mio video è perfetto per chi fosse nuovo su questo canale ve lo spiego in breve il mio video è perfetto non vuol dire che io ho la pretesa di creare un video è perfetto anzi, il mio video è perfetto vuol dire che io ricreo un video che io da fan dei video ASMR considererei perfetto per me, diciamo il mio video preferito da guardare, la mia tipologia preferita da guardare e questo include questo tono di voce che non è proprio whispering, è un pochino più basso, sto usando un po' meno avviato il Blue Yeti che adoro, 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 adoro vi mostrerò, sarà una specie di shwantella, vi mostrerò i miei preferiti del periodo ma è una scusa per fare appunto tutti questi trigger in un video se questo tipologia di video ti piace, se questo video ti piacerà, ricordo di mettere un bel mi piace e di lasciare un commentino su quello che vuoi, su come è andata questa giornata su ciò che hai preferito di questo video basta che tu ti faccia vivo nei commenti perché io adoro ricevere il vostro feedback e soprattutto è importantissimo per me quindi cominciamo subito da questo a questo a questo a questo il profumo di caffè il profumo di caffè è uno dei miei profumi preferiti in assoluto non sono una grandissima fan del caffè ma il suo profumo io tipo prenderei tutte le candele col profumo di caffè di espresso comunque comincio con i miei preferiti del periodo con questo gloss questo è un gloss trasparente di espresso io ho collaborato con loro sull'altro sot a dicembre mi hanno inviato un po' di loro prodotti e a parte che li ho amati alcuni li volevo provare da una vita tipo il blush o quello trasparente in particolare adesso in realtà proprio negli ultimi mesi negli ultimi due mesi sono entrato in fissa con il gloss in generale con il gloss proprio tanto ma tanto anche con questo e nonostante il gloss è stato spessissimo è ancora così e adesso lo vado ad applicare a parte che il bag è bellissimo guardate come mi ha rimbolpato le labbra come me l'ha detto di lucida ma non troppo lucida questo idrata anche è abbastanza spesso pure le labbra non ve lo dico non è ha un certo spessore ma non è particolarmente appiccicoso però avendo un certo spessore rimane mi piace tanto e poi veramente non lo sento così il suo odore è qualcosa che crea dipendenza troppo buono troppo buono e quindi si se anche voi se li utilizzate se li utilizzate lì più rossa siete entrati in fissa avendo ultimamente io non utilizzo quasi più rossetti siccome si vede anche nei video poco poco rossetti ma tantissimo tantissimo qualsiasi tipo di lip gloss soprattutto trasparenti in realtà ma passiamo al secondo preferito del periodo lo prendo ah tra l'altro oggi ho ho letto un commento che mi diceva che mi chiedeva perché portava l'apparecchio acustico perché questa persona vedeva questi non c'è una di male a portare l'apparecchio acustico non lo sottolineo per questo semplicemente perché si chiedesse cosa sono le orecchie o gli auricolari perché mi sento di controllo che il video sta andando bene che non ci siano rumori esterni eccetera eccetera ecco eccetera 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 Questa macchina fotografica è allergica alla messa a fuoco, non so, non so spiegarmelo altrimenti alla зак wifi Right, non so, non so non so, non so e la impera questo che è in mano il mio fedelissimo kindle ha non solo modello, ma è un modello abbastanza vecchio e ha più di tre anni sicuramente, ma è un tre anni e mezzo sicuro più di tre perché ce l'avevo in viaggio di nozze io amo leggere sul kindle, vi devo dire la verità perché è comodissimo, soprattutto la sera, letto, perché non hai bisogno della luce quindi lo adoro, ultimamente in questo periodo sto leggendo molto sono molto contenta, avrei preso questa abitudine che per quanto mi riguarda fa e viene nel corso della mia vita ma adesso sono in buona, finisco un libro, ne leggo un altro riesco a lettere più o meno tutte le sere, nel weekend leggo un po' di più o comunque, ma per un momento libero, dopo pranzo, un metto libero, ecco, poi così, in 4 ore e quest'anno, dall'inizio del 2024, ho letto, vabbè mi sono fatta tutta la rilettura di tutti gli Harry Potter e va bene non la facevo tipo da tre anni, è stato bellissimo e poi ho letto un libro che mi è stato consigliato a termine tante volte che ho detto ok, vado sul sicuro che è Circe di, mi sembra, Madeleine Miller l'ho amato e vi faccio vedere la schermata, scusate se faccio dei movimenti così, ma malissimo il collo oggi come si può andare nell'home? non ci so andare guardiamo ora che non so andare nell'home ok ok, ci siamo vi faccio vedere vi faccio vedere ho letto Circe questo qui non puoi vedere se no no, scusate, questo è Unker Games ho letto tutti gli Unker Games, ma questo era il 2023 Circe che è questo qui ok no no dicevo Circe che è questo qui l'ho letto l'ho amato e adesso sto leggendo invece la canzone di Achille sempre della della stessa autrice lo sto venendo perché sono al 92% quindi proprio sono agli scottoli e mi sta piacendo molto entrambi, devo dire che forse ho preferito leggermente Circe e dopo ho letto che c'è un altro libro e vi faccio sempre, non di quest'autrice, ma sempre sullo stesso tema, su Calliope devo leggere quello prima di passare a tutt'altro genere voglio mantenermi un pochino sui miti greci, ma youtube greci quindi si, il preferito del periodo è sia il Kindle sia i tuoi libri Circe e la canzone di Achille che me lo so di consigliate per me tante volte, quindi ci sta mi sta piacendo molto in generale mi sta piacendo molto, ultimamente leggere mi rilassa tanto un'altra cosa che ultimamente mi rilassa tanto e che ho scoperto in questo periodo che mi piace tanto è fare puzzle mi piace tantissimo praticamente c'è un brand che mi ha inviato due del loro puzzle e appunto li ho fatti uno dietro l'altro uno da 500 e uno da 1000 pezzi e devo dire che ho preferito forse quello da 1000 pezzi perché veramente mi sono stata po' 15 ore no, di più forse anche 20 ore, non lo so sicuramente almeno 12 ore perché mi sono ascoltata tutto l'audiolibro del di Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Cotto quindi ho trovato tipo 11 ore e mezza quindi sicuramente almeno quel tempo e mi rilassato tanto mi teneva concentrata a volte la sera mettevo lì bellissimo proprio e tra l'altro mi passava il tempo velocissimo cioè mezz'ora mi volava e l'ho amato ho amato fare i puzzle la marca che me l'ha inviato si chiama Stu Puzzle e tra l'altro loro hanno tipo nella scatola un codice di Spotify per ascoltare una playlist ASMR mentre mentre compone il tuo puzzle per aumentare l'allassamento o almeno ho capito una playlist ASMR mi sembra comunque una playlist consigliata si 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 quando metti in pausa il mondo riproduci la nostra pelle in sottofondo riproduci la nostra pelle in sottofondo riproduci la nostra pelle in sottofondo o un temporale nella foresta o un proprio ASMR pure il codice di silenzio di questo momento i nostri panico sono molto più semplici pezzi che si incastrano sono un invitante di sconnetterti da un rumore incessante rallentare e dedicare un tempo a te eccomi mi è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto e vi dico ve lo faccio anche vedere un pezzo di questo questo sarà un sesto del puzzle ecco purissimo che si rompe di parte dei pezzi questa è quella da 500 e vi dico quelli che mi hanno inviato mi piacciono e penso che li incornicherò però in generale ci ho preso gusto e magari acquisterò anche qualche puzzle da loro se c'è qualche fantasia che mi ispira particolarmente adesso perché questi sono anche pensati proprio per essere appesi esposi diciamo così però in generale pensavano e tu può se ti piace fare puzzle e ne fai tanti dove li metti e secondo me ho pensato uno magari secondo me ci sono dei posti che non leggono giochi che non leggono anche puzzle forse però poi hai paura che non sia completo anzi no inizio a pensare se mi avete delle soluzioni ditemelo pure mi piacerebbe fare un puzzle per poi anche venderlo così lo può fare anche qualcun altro perché sì non lo so mi è piaciuto tanto lo farò un po' di suoni con questo puzzle ma se sta distruggendo che devo appendere e vi faccio anche vedere l'altro puzzle che ho fatto e vi faccio sentire anche un po' di suoni e vi faccio sentire anche un po' di suoni questo questo è il puzzle più grande che ho fatto a mille pezzi e ci ho messo ci ho messo un 12-13 ore forse anche più forse anche 15 e mi è piaciuto tantissimo io voglio farci un po' di suoni voglio farci un po' di tapping quindi ci ho messo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi niente, mi è piaciuto appunto tantissimo farlo e se volete trovare magari un hobby o qualcosa che vi faccia staccare la mente, questo può essere anche qualcosa. Cioè costruire puzzle a me è piaciuto veramente tanto e sei in una sorta di... perché non è solo... e quando fai qualcosa con le tue mani comunque devi assemblare qualcosa, no? Che sia ricamare, che sia faramagna, che sia uncinetto, che sia ceramica, quello che vuoi. Che sia fare dei tortelli. Sono quei momenti in cui se non sei concentrato su ciò che fai, non fai. Quindi mi è piaciuto tantissimo perché proprio mi prometteva di sconnettermi ma senza staccare completamente il cervello. Quindi non passivo come quando guardo una serie tv, ma in modo un po' attivo, semplicemente diverso. Te lo svuota e te lo riempie solo della cosa che stai facendo. Mi è piaciuto molto. Proprio come mi ha fatto sentire. E lo volevo condividere con voi perché magari anche voi in questo momento avete bisogno di qualcosa del genere. Mi faceva piacere potervi dare un'idea. L'altro e l'ultimo preferito di questo periodo è questo. Questo è un campioncino, campioncione di profumo. E' un profumo molto intenso. Forse più da sera che da giorno. Molto intenso, molto profondo. Non so cosa sto dicendo, non sono separato i profumi. Sto dicendo le mie sensazioni. Se faccio una nota la descriverei come grave. Però mi è successo qualcosa anche di floreale. Non fruttato, ma floreale. Comunque. Ed è il... Magari dopo mi vado a leggere la descrizione per vedere se ho già ziggato qualcosa. Ed è il Mayway di Empore Harmony. Allora, facciamo due spruzzi. Allora, facciamo due spruzzi. e secondo voi quanti millilitri sono? secondo me è un 15 millilitri, forse anche 20 lo sono perché qui è spesso, però qui non mi sembra spessissimo il vetro comunque almeno 15 lo sono mi è arrivato con un ordine che ho fatto online di cose beauty mi è arrivato come campioncino e vi devo dire non sono solita mettere profumi non sono persona da profumi forse anche perché mia madre non li metteva, non ha questa abitudine non ha questa passione però in realtà mi associano invece molto a questa passione e un po' mi ha fatto insomma avvicinare a questo mondo però non sono mai stata costante e vi dico, non so perché, ma da quando mi è arrivato questo, due o tre mesi fa lo sto utilizzando tutte le volte che esco di sera lo utilizzo, mi piace, me ne ricordo e anche se non è il mio profumo preferito perché se dovessi scegliere un profumo non sarebbe così comunque mi sta piacendo e vorrei vedere, vorrei fare questo esperimento vorrei vedere quanto ci metto a finire per capire se abbia senso magari per acquistare anche un profumo non voglio che mi parto una pisse perché no ci manca solo questa la c'è troppo pisse però un profumo io so che mi piacciono molto i profumi con la pera mi piace tantissimo l'odore della pera da matti, molto fresco e secondo me anche Floreale mi piace molto però non troppo dolce che alcuni sono stucchevoli tipo mi piace tantissimo il quello di Chanel come si chiama? oppure di Dior forse tipo Misty Or e tipo Coco Mademoiselle sia Misty Or sia Coco Mademoiselle mi piacciono tantissimo il più costoso, ti pare? però non capisco mai se si associerebbero a me non lo so magari ti piace ma non lo so cioè a me non lo so se mi stanno bene ditemi se siete un po' esperti appassionati ai profumi che profumi consigliate? secondo i miei gusti quindi sicuramente dolce ma non troppo e appunto con un sentore affruttato fiorito ha senso non lo so comunque abbastanza fresco in ogni caso questo devo dire che non mi sta dispiacendo non mi sta dispiacendo per la sera proprio di loro no? quindi è un po' un esperimento per me in realtà mi piace tantissimo quando qualcuno cioè mi piace tantissimo magari abbracciare le persone e sentire proprio che profumano non un buon profumo ad esempio la migliore amica due delle mie miglior amiche che profumano sempre hanno sempre un profumo e le associo però sempre a quel profumo e ho anche un'altra amica invece che cambia sempre profumo è appassionatissima e lei non bisognerla mai sentita senza profumo neanche quindici anni fa speriamo io mai è molto di classe lei e nulla io spero che questo video vi sia piaciuto nella sua semplicità ho parlato molto ma il mio intento era parlare molto a me piacciono i video in cui si parla mi piacciono i video in cui si spiegano le cose mi piace sentire proprio la voce il whisper mi piace da matti soprattutto questo tono quindi è arrivato ben qui tra l'altro commento con la parola profumo è un punto fantasioso è un punto fantasioso chiaro si e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio se aggiungere se aggiungere l'ora di a 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 le noci e augurarti augurarti augurare a te a te a te a te a te o da o da o da sono sono Sonia d'ore Connect Sweet dreams Why not? You will not To the last one Good night With the Show your hands Good night Good night Good night Good night Let me know Let me know Let me know I'm going with my little pastikini A lathe A lamiate Il cioccolato Un bacio e ora è molto forte che rispero